Ciao a tutti! Oggi prepareremo i muffins di albumi e gocce di cioccolato. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono albumi a temperatura ambiente, olio di semi, zucchero a velo, farina di tipo 00, lievito, sale, latte di mandorla, manillina e gocce di cioccolato fondente. Diamo il via alla ricetta! Iniziamo la ricetta posizionando sulle lame la farfalla. Versiamo gli albumi, un pizzico di sale, e li facciamo montare per quattro minuti a velocità 4, senza misurino. Gli albumi sono ben montati, togliamo la farfalla e trasferiamole in una ciotola capiente. Senza lavare il boccale, mettiamo il latte di mandorla, l'olio di semi e lo zucchero a velo. E facciamo amalgamare per 30 secondi a velocità 4. Aggiungiamo la farina, il lievito e la vanillina. facciamo amalgamare per un minuto a velocità 5. Versiamo il composto nella ciotola con gli albumi. Amalgamiamo delicatamente con movimenti dall'alto verso il basso. Trasferiamo il composto in degli stampini per muffin. Mettiamo adesso sopra le gocce di cioccolato. cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 15 minuti circa. I muffin sono cotti, lasciamoli raffreddare prima di servire. Muffin di albumi e gocce di cioccolato. Grazie e alla prossima ricetta! Muffin di albumi e gocce di cioccolato. Muffin di albumi e gocce di cioccolato.